Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibili a causa di un veicolo in avaria segnalato al chilometro 7 si sono formati due chilometri di coda in direzione mare tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. Ancora in direzione mare fare attenzione per personale su strada per lavori tra Firenze Scandicci e Scandicci. Sulla A1 l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per lavori. Sulla corda autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Sulla regionale Due Cassia per lavori restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.